L'Europarlamento ha dato il via libera alla proposta di legge comunitaria sul ripristino della natura. I voti a favore sono stati 336, quelli contrari 300 e gli astenuti 13. Una mozione per respingere la proposta legislativa della Commissione non è stata approvata. Con il provvedimento gli eurodeputati sottolineano che il ripristino degli ecosistemi è fondamentale per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità e riduce i rischi per la sicurezza alimentare. Inoltre evidenziano che la proposta di legge non impone la creazione di nuove aree protette nell'Unione né blocca la costruzione di nuove infrastrutture per l'energia rinnovabile. Tra gli eurodeputati italiani opinioni diverse sulla proposta di legge che sarà al centro dei negoziati con il Consiglio sul testo definitivo. Preoccupazione, un pizzico di delusione perché per una manciata di voti non siamo riusciti ad arrestare questa ennesima follia che nel nome di un ambientalismo da salotto impone a chi nell'ambiente ci vive e lavora per davvero come agricoltori, pescatori, allevatori, in generale chiunque viva nel mondo rurale, impone loro dei vincoli, degli ostacoli nella loro attività quotidiana di fatto rendendo pressoché impossibile lo svolgimento di attività che magari svolgono da generazioni e generazioni.